Benvenuta! Il giorno del complano di Putin era un 7 di ottobre del 2006. Lei, tua mamma, giornalista, coraggiosa, capace, brava, e per questo faceva ancora più paura, perdeva la vita. I mandanti dell'omicidio non sono mai stati trovati, ma tu un'idea ce l'hai? Naturalmente ho le mie idee, ma c'è la presunzione del fatto che le persone non siano contevoli. Adesso non faccio nessun nome, non lo posso fare. In questo libro, una madre, scritto con Sara Giudice, racconti tua madre, Anna Politkovskaya, che anche noi abbiamo raccontato in questo servizio di Enrico Bonanno. Vediamo. 7 ottobre 2006, 54esimo compleanno di Putin. Nell'ascensore di un palazzo di Mosca viene trovato un cadavere con una pistola e quattro bossoli accanto. Qualcuno ha spento così, a 48 anni, una delle voci più libere e coraggiose della Russia, quella della giornalista Anna Politkovskaya. Nata a New York nel 1958 da due funzionari sovietici ucraini, aveva iniziato la sua carriera in un momento di passaggio, gli anni 80 e 90, fra il crollo dell'URSS e l'emergere di nuovi leader al comando. La svolta era arrivata nel 99, quando, inviata della Novaya Gazeta, aveva iniziato ad occuparsi della Seconda Guerra Cecena, denunciando gli abusi contro i civili, le violazioni dei diritti umani, le torture sistematiche e diventando presto la più nota oppositrice del nuovo presidente. Opere come La Russia di Putin divennero i primi gridi d'allarme per un nuovo totalitarismo mascherato che stava sostituendo quello sovietico. Malgrado minacce e un probabile tentativo di avvelenamento nel 2004, gli articoli e i libri di Anna Politkovskaya raggiunsero presto la fama internazionale. testimonianze libere, dirette, impietose, per qualcuno inaccettabili, fino all'ultimo atto, a quell'omicidio per cui mai venne fatta giustizia, ma che ancora ci ricorda che libertà e verità sono valori non negoziabili, da perseguire a ogni costo. Tu scrivi Nostra madre ha spesso detto a me e a mio fratello che molto probabilmente la sua non sarebbe stata una fine ordinaria. Ci scherzcava persino sopra dicendo che se proprio doveva essere uccisa sperava che almeno accadesse in un modo confacente a una donna, per esempio con un elegante mazzo di rose avvelenate. E quando te lo diceva tu cosa le rispondevi e cosa pensavi? Bene, molto spesso io a queste sue dichiarazioni non potevo rispondere nulla, in quanto le mie parole, anche quando questo si discute, è difficile immaginarsi che le cose fossero andate in questo modo. E nonostante il fatto che lei ha cercato di preparare me, mio fratello, per questo evento e in ogni caso questa fu una cosa scioccante per noi. Hai mai cercato di dissuaderla nel continuare le sue denunce del regime di Putin? Se leggete i suoi reportage sulla guerra in Cecenia scoprirete quello che poi abbiamo letto nella cronaca di oggi sulla guerra in Ucraina, stragi di civili. Hai mai cercato di dirle mamma ti prego basta? Bene, tanti nostri membri della famiglia gli dicevano questo, di smettere. Io praticamente non avevo nessun argomento di quelli che potrebbero convincerla di smettere, quindi molto spesso rimanevo in silenzio. Io ascoltavo gli altri che cercavano di convincerla di smettere. Nonostante tutto ciò, lei una volta mi aveva promesso di smettere, di smettere con la propria attività pericolosa in Cecenia. Se uno di noi o mio fratello o io avessero dovuto avere dei figli, ma purtroppo lei non ha potuto vedere la sua prima nipote, le sono mancati cinque mesi prima che nascesse la bambina. Tua figlia si chiama Anna, come tua madre, e so che peraltro siete andati via, dove vi vedete, cioè vi vedete in una località non segreta, comunque che non divulgate. Vorrei collegarmi adesso con Stefania Battistini, che è stata forse la prima, una delle prime inviate di questa azienda, della nostra azienda in Ucraina. Anche tu sei di libreria con un volume che si intitola Una guerra ingiusta, racconti e immagini dall'Ucraina sotto la bombe. Dove sei adesso e in quest'anno, Stefania? Come sei cambiata tu, dopo aver raccontato giorno dopo giorno l'orrore di questa guerra crudele, insensata? E' micidiale contro anche i civili? Sì, è veramente che si porta all'abismo, a quella crudeltà di quella capacità. E' chiaro che per chi fa il giornalista deve mantenere una certa lucidità, perché il tuo dovere è quello di applicare gli stessi criteri scientifici che applichi davanti alla cronaca giudiziaria. Per cui un anno di raccolta di sofferenze indicibili di questa popolazione, perché noi lo dicevi, siamo arrivati qua dieci giorni prima dell'invasione ed allora non facciamo altro che incontrare i civili, soprattutto che ci raccontano della morte delle loro persone care, incontriamo soldati che fino al 24 febbraio non erano soldati, ma erano persone che facevano, non so, il meccanico agricolo piuttosto che l'informatico che oggi sono costretti a vivere a meno dieci gradi in trincea per difendere la loro terra. Ti cambia? Sicuramente io faccio fatica a vedere quello che accade dentro. so che devo militarmente rimanere razionale e poi chiaramente quando rientri in Italia, lo scriveva Francesco Battistini qualche mese fa sul Corriere della Sera, è più difficile tornare a vedere questa differenza tra noi e loro, tra la loro vita e la nostra e c'è un po' di senso di colpa nel tornare, sapere che tu hai una casa, puoi tornare in una casa sicura, puoi rivedere le persone che ami e loro no. C'è una cosa che mi ha colpito oggi, tra le varie articoli che ho letto, è un articolo di uno dei miei autori preferiti che si chiama Jonathan Little, che cita Joseph Demestre, una battaglia persa, una battaglia che si è convinti di aver perso, è l'opinione a far perdere le battaglie e quindi anche le guerre, è l'opinione a farle vincere ed è per questo che il ruolo di tua mamma, il ruolo di Stefania, il ruolo di tutti noi, che anche in modo assolutamente è piccolo, però cerchiamo comunque di non chiudere gli occhi di fronte a questa guerra. La guerra in Ucraina, secondo te, Vera, è qualcosa che diverge dalla testa di Putin? È un impazzimento di Putin o è la diretta conseguenza dell'azione politica di Vladimir Putin? Bene, penso che sia una pazzia, la guerra è una pazzia, pazzia moltiplicata per le sue ambizioni politiche di Putin. L'opposizione in Russia esiste? I primi giorni le avevamo viste, avevamo i cartelli, le voci, no, col no alla guerra. Esiste ancora? Qualcuno ti contatta? Sei comunque la figlia di un simbolo così importante? Bene, esiste ancora questa opposizione, però oggi succede, dopo il 24 di febbraio 2022, sotto la forma di prigionia, le persone sono state messe in carcere o hanno dovuto emigrare, però una parte di queste persone oramai ha perso la propria vita. Quindi, purtroppo, ora, basandoci su tutta questa situazione che abbiamo in Russia, le leggi promulgate negli ultimi anni, pian piano, noi vediamo che le persone erano sempre più chiuse nel loro interno, non avevano la possibilità di esprimere le loro opinioni, ciò che loro pensano. Purtroppo tutto ciò ha portato al fatto che la voce delle posizioni oramai è relegato al silenzio. Un anno di guerra, vediamo le immagini a cura di Daniela Scotto. Punteremo alla demilitarizzazione e alla denazificazione dell'Ucraina. Punteremo alla demilitaria Punteremo alla demilitaria Punteremo alla demilitaria Stefania, dove sei esattamente adesso? e che punto ci puoi fare sulla situazione militare in Ucraina? Sappiamo che molte ambizioni di Putin sono state sconfessate un istante dopo perché Zelensky è rimasta al suo posto, Kiev non è stata presa, ma questa guerra chi la sta vincendo? Io penso sempre che l'Ucraina in parte l'abbia già venuta questa guerra perché ha creato un'unità di popolo e una volontà di resistenza. Secondo me li ha fatti davvero scoprire una forza insospettabile. Sul campo è tutto un altro discorso, una guerra di logoramento, una guerra terribile, stagnante, perché gli ultimi successi militari di Putin sono stati a luglio a Severodonetsk, dopo la sconfitta che ricevi del ritiro di Kiev, ma poi a settembre hanno perso totalmente la regione di Kharkiv e poi Khersona, per cui per Putin è un inanellarsi di sconfitte. Per gli ucraini no, sono arrivati gli Aymars a luglio e hanno prodotto questi risultati, ma questa fase, questo inverno gelido racconta di un'impossibilità della Russia di sfondare ancora una volta, però non si vede una svolta sul terreno. Noi siamo in Donbass dove eravamo un anno fa e siamo alle porte di Bakhmut, stamattina ci siamo andati di nuovo, ieri ci siamo tornati e c'erano cadaveri carbonizzati all'ingresso della città, nell'unica via di accesso alla città. Dentro la città ci sono ancora 5.000 persone, sembrerebbe perché è anche difficile calcolarle. Tu pensa quanto è difficile far arrivare le medicine, far arrivare l'acqua, far arrivare il cibo. Le ultime persone che abbiamo visto appunto ieri sembrano una vita fa. Ogni giorno qui sembra un mese e c'erano una trentina di persone in questo unico shelter, in questo unico rifugio antiaereo in attesa che arrivassero medicina e cibo ed erano in condizioni igieniche e di sicurezza inaccettabili e insopportabili. Però diventa difficile anche per i volontari passare quella strada e rischiare la vita per farlo. Questa è la condizione adesso in Donbass che è stato sotto il sedio. Scusami, no, se avessi finito, una cosa volevo chiederti prima di salutarti. I momenti di momenti terribili ce ne sono stati ovviamente tanti in questo anno. Primo fra tutti la scoperta delle fosse comuni a Buccia e poi purtroppo in tanti altri luoghi dai quali i russi si ritiravano. Però voglio chiederti una speranza. L'hai vista in quest'anno? In chi? In cosa? Dico sempre che questo popolo mi ha insegnato tantissimo la vedo in ogni loro forma di resistenza dalla più piccola cioè l'idea di curarsi di prendersi cura esteticamente di loro stessi sono sempre pulitissimi sempre in ordine anche quando vivono negli scantinati ed è un modo quello della cura esteriore che diventa acciaio dell'anima e ogni volta vedo questa generosità perché non hanno veramente niente eppure quando li andiamo a trovare bussiamo alle loro porte e rompiamo le scatole oggettivamente in un momento così complicato hanno sempre la voglia di farci entrare di offrirci un caffè di offrirci un pezzo di lardo e della vodka che sono le poche cose che tengono in questi scantinati e sono contenti di donarle e quindi io la vedo questa solidarietà questa bellezza di questo me lo porto dentro Grazie Stefania davvero buon lavoro di cuore buon lavoro di cuore una guerra ingiusta vi ricordo il titolo del suo libro così come vi ricordo Vera Politkovskaya una madre una vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaya tutte le librerie sono piene di presentazioni e tanti italiani vogliono conoscere la storia di Anna e ti dimostrano Vera tanto affetto ecco ho letto che quando ti hanno chiesto ne è valsa la pena tu giustamente da figlia hai risposto io ho perso mia madre quindi per me no perché tu vorresti tua madre vorresti la nonna per la tua nipotina però quando vedi questo affetto nei confronti di tua mamma che cosa provi? un po' lenisce il tuo dolore? questo non linisce il dolore però mi dà la sensazione del fatto che non sono più sola non sono in solitudine e questo ho provato fino dall'inizio quando la mamma è stata brutalmente uccisa ho visto la reazione nei paesi occidentali su tutto ciò che era successo e in un certo punto questo mi ha scaldato ho scaldato l'animo del fatto che io mio fratello non siamo stati lasciati sole con questa terribile perdita quando pensi a tua mamma qual è l'immagine che ti viene davanti? l'immagine di tua mamma più forte quella più intima? bene naturalmente la ricordo non al lavoro non come mi lasciava per andare in Cecenia gli ultimi giorni naturalmente li ricordo molto bene lei era in uno stato molto difficile perché due settimane prima della morte lei ha perso suo padre mio nonno nonostante tutto ciò lei guardava nel futuro con una speranza io stavo per diventare mamma lei voleva vedere la sua nipotina sapeva che io avrei avuto una bambina ne abbiamo parlato con lei abbiamo parlato del futuro che mi aspetta in quanto una madre e questo era bellissimo naturalmente era molto molto bello Anna Politkovskaya è possiamo definirla è stata davvero un'eroina e per quanto questo possa essere inutile quello che voglio dire a lei tramite te è un'enorme grazie davvero vi ricordo che fino al 12 marzo potete contribuire all'agenzia ONU per i rifugiati UNHCR per aiutare la popolazione ucraina a un anno dall'inizio della guerra il numero da chiamare è il 45588 con un sms o chiamando da telefono fisso grazie a Vera Politkovskaya grazie a tutti